Ciao a tutti e benvenuti a GialloBook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi ci vediamo il 28esimo unboxing, che sarà rapido rapido, anche e soprattutto a causa di problemi che ho avuto in libreria. Detto questo vi faccio vedere il contenuto di questa busta. Il contenuto di questa busta è lui. Ho scelto lui per due motivi. Il primo perché mi piaceva il fatto che continua la saga di Ballard e Bosch. E il secondo perché ho letto la trama e mi ha incuriosito e ho deciso di prenderlo. Anche per, ripeto, avendo tutto il resto della saga mancava questo. Vi avviso anche che a novembre uscirà un altro capitolo sempre di questa saga. Bene, di questo arriverà la recensione quanto prima. Detto questo, fatemi sapere se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste e cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi piace il video che faccio. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti e risponderò appena possibile. di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. E vi chiedo di farlo perché ci tengo. Non è mio ma è di una persona a cui tengo particolarmente. E che, come vi ho già detto nel precedente video, venerdì sarò venerdì sera, ore 21, quindi 30. Sarò in live qui su YouTube per festeggiare i 10 anni del canale. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Statemi bene. Ciao!